La grande pallavolo maschile al Palasport Panini Casa Modena. Campagna abbonamenti Modena Volley.0 2013-2014. Tutte le partite dei giallo-blu, prezzi invariati, categorie ridotto fino a 23 anni compiuti e ridottissimo per bambini dai 6 ai 12 anni. Abbonamenti presso tutte le filiali della Banca Popolare dell'Emilia-Romagna. Per informazioni 059 48 21 911 e www.pallavolomodena.it Abbonati a Casa Modena, lo spettacolo del volley, lo spettacolo del nostro palazzo!